Benvenuti nel mondo degli orologi Aquanatic. Gli orologi Aquanatic rappresentano la sintesi perfetta tra eleganza, raffinatezza e passione per la subacquea. Fondata nel 2006, l'azienda ha creato una collezione esclusiva di orologi subacquei di lusso, progettati per soddisfare le esigenze degli appassionati di immersioni, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità. La collezione Aquanatic è stata disegnata per resistere alle condizioni più estreme, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità come titanio, acciaio inossidabile e oro. Inoltre, ogni orologio Aquanatic è dotato di un movimento svizzero di precisione, che garantisce la massima accuratezza nel tempo. Gli orologi Aquanatic sono caratterizzati da funzionalità avanzate come la resistenza all'acqua fino a 500 metri di profondità, il quadrante luminoso e il cronometraggio del tempo di immersione, che rendono l'esperienza subacquea ancora più emozionante e sicura. Ogni orologio Aquanatic è un pezzo unico, realizzato con cura e precisione, con dettagli che richiamano il mondo subacqueo e la bellezza del mare. La cura artigianale con cui vengono creati questi orologi li rende veri e propri tesori di alta orologeria. Gli orologi Aquanatic sono la scelta perfetta per chi cerca un orologio di alta qualità, che unisca funzionalità e design unico. Grazie alla loro resistenza alle condizioni estreme e alla loro cura artigianale, questi orologi sono veri e propri pezzi d'arte che possono essere apprezzati sia dagli appassionati di subacquea che dai collezionisti di alta orologeria.